Buongiorno a tutti, eccoci con una nuova diretta. Questa volta vi è un esercizio relativo al... lo scriviamo qui... è di tipo ragionamento... io lo caratterizzerai come ragionamento astratto... di tipo anche spaziale e meccanico... che sicuramente richiede anche abilità visiva. Per non farvi perdere tempo una parte della traccia dell'esercizio preso dal database degli esercizi che capitano, per la prova preselettiva ho già scritto qui, scriviamolo in viola, concorso scuola, in particolare ordinario, in particolare prova preselettiva. Alcuni di voi mi hanno detto che gli esercizi che stai proponendo sono molto semplici, ne ho preso uno leggermente più difficili di quelli che richiedono, insomma, un equilibrio, in questo caso un equilibrio statico, quindi un equilibrio di forze che sia in statica, quindi in assenza di modo in assenza di cinematica. E partiamo con la traccia. Io mi dedicherò nella prima parte ad illustrarvi l'esercizio, cioè a leggere la traccia con voi e a valutarlo. Poi mi darete un minuto per risolverlo, dopodiché vi spiegherò perché l'ho risolto in quel modo, ne parleremo, lascerò farlo dei commenti finali e i consueti. Quindi, ringraziamenti. Allora, il titolo, la traccia è questa. Dei bambini giocano su un'altalena, la prima parte l'ho ricordata, dei bambini giocano su un'altalena che ha due posti per lato. Il seggiolino esterno dista dal perno 100 cm, mentre quello interno 80 cm. Fin qui ho ricopiato tutto, sempre nella traccia c'è questa simbologia che vi aiuta a capire che il seggiolino esterno è a 100 cm dal fulcro, il seggiolino interno è a 80 cm. Nella traccia non vi è l'altra parte, ma il problema è simmetrico. E' ovvio che anche qui, anche questa distanza è 80 cm ed anche questa distanza è 100 cm. Dopodiché, continuiamo a leggere i dati, li inseriamo noi. Sul seggiolino esterno del lato destro, quindi questo è il lato destro, è seduto un bambino di 22 kg. Questa è la parte esterna, che sono qui 22 kg. Mentre sul seggiolino interno è seduto un bambino che pesa 4 undicesimi del primo. Quindi questo qui è 4 undicesimi di 22 kg del primo. Sul seggiolino interno del lato sinistro si sede un bambino che pesa 18 kg. 18 kg. Un quarto bambino sale sul seggiolino rimasto libero, che è il lato esterno sinistro ovviamente, e l'alta lena va in equilibrio. Quanto pesa il bambino? Quanto pesa questo bambinone qua? Allora, lasciatemi, partiamo col conto alla rovescia, lasciatemi un minuto, anche un minuto e mezzo, non vi arrabbiate, e alla fine poi di tutto vi spiego perché. 3, 2, 1, via! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Ok, ho finito. Allora, adesso cominciamo a spiegare il motivo. Allora, diciamo che ve lo spiego in più modi, così da poter essere chiaro a tutti. Allora, essenzialmente qui vi deve essere un equilibrio di forze. Adesso vi rifaccio il disegnino, solo con le forze. Allora, qui c'è l'altalena, qui c'è il fulcro, qui abbiamo una forza 4 undicesimo di 22, abbiamo semplificato, è 8 kg. In realtà è meglio parlare di massa, è una massa di 8 kg. La forza, la forza peso è la massa per l'accelerazione di gravità. E si misura in newton. Quando noi diciamo che il nostro peso è di, che ne so, 70 kg, è un errore. La nostra massa è di 70 kg, il peso è circa 700 newton. Poi, qui abbiamo 22 kg. Qui ne abbiamo 18 kg. Qui non lo sappiamo. Questi esercizi capitano spesso. Di solito vi è una massa qui, una massa a una differente distanza qui, e ci chiede quant'è la distanza o quant'è la massa. In questo caso ho cercato di fare un esercizio leggermente più difficile, me l'avete chiesto in tanti. E allora, ci proviamo. Ovviamente ci deve essere un equilibrio delle forze. Se parlassi in maniera un po' più corretta, un equilibrio dei momenti. Equilibrio. Ma non fatevi spaventare, eh. dei momenti, delle forze. Ricordiamo che cos'è un momento, dato che ve l'ho detto. Il momento è la forza, scusate, mi chiamano in continuazione, anche se ho silenziato quasi tutti gli smartphone. Forza per braccio. E si misura in newton per metro. Non vi preoccupate. Che cos'è questo momento? Non è nient'altro che il prodotto di questa forza per questa distanza, e di questa forza per questa distanza. Queste forze creano un momento di tipo orario, lo vedete? Fanno ruotare, farebbero ruotare l'altalena in senso orario. E quant'è questo momento? È 8 chili, perché la massa è 8 chili per 80 centimetri. Centimetri non è nel sistema internazionale. Io l'ho preferito, potete anche mettere per 80 centimetri. Io ho preferito scrivere per 0,8 metri. Ho lasciato, no, non ho inserito le unità di misura per brevità. Non fatelo nemmeno voi. Più, abbiamo anche altri 22 chili per un metro. Attenzione, quando avete 1, 1 è l'invariante del prodotto. Quindi se scrivete solo 22 chili, è la stessa cosa. Se voi qui scrivete solo 22, non cambia niente. Perché moltiplicare un numero per 22 si ottiene un numero stesso. Quindi abbiamo sempre 22. Io adesso ve l'ho messo quest'uno. Per esempio qua non ho messo x per 1. Sapevo che x sta a distanza 100 centimetri. Quindi ho messo direttamente x. Poi, dall'altra parte abbiamo queste forze che producono un momento che comunque farebbero ruotare l'altalena. Lo capite anche voi, intuitivamente. Ecco perché parlo di abilità visiva, spaziale e meccanica. Che danno un momento di tipo anti-orario. Quindi si deve equilibrare. Da una parte abbiamo 18 chili per 0,8 metri, che sono gli nostri 80 centimetri. Dall'altra parte abbiamo l'incognita, una massa incognita, che è x per 1 metro. Però mettiamoci direttamente x. Adesso l'abbiamo risolto. Dobbiamo solo applicare le leggi delle equazioni. Essenzialmente portiamo questo dall'altro membro. Poi mettiamo x, ci troviamo x. Quindi x non è nient'altro che 8 per 0,8, che viene 6,4, più 22, meno, perché andiamo a portare, gli cambiamo il membro, quindi dobbiamo mettere il segno meno, 18 per 0,8, che è uguale a 6,4, più 22, meno 14,4. Quindi il 0,4 se ne vanno 6 e 22, 28, meno 14, otteniamo proprio i nostri 14 chili. Allora ho cercato di essere sintetico in questo esercizio, spero non troppo, spero di essere stato comunque chiaro. So che per alcuni, prevedo che per alcuni questo esercizio non sarà banale, caso mai rivedetelo, risentitelo. Se avete difficoltà, me le scrivete qui sotto, qui sotto, nei commenti. Grazie per tutti quelli che lascio nei commenti, grazie per tutti quelli che qui si sono iscritti, grazie per tutti quelli che qui hanno lasciato il pollice in su. Arriviamo ai ringraziamenti, perché io ci tengo tantissimo a ringraziare tutte le persone che aiutano a mantenere questo canale sempre attivo. Enza Maria Gucciardo, complimenti se hai molto preparato. Alessandro Loss, combinare i tuoi video. Ecco, questo è quello che dico sempre. Quindi lo leggo, il commento perché è un aiuto per voi. Combinare i tuoi video con le letture dei vari manuali di DSS, Maggioli, aggiungo io, oppure c'è l'edizione Simone, è il top. Trovo una direzione precisa da utilizzare per esercitarmi. Grazie mille, hai capito? Al volo quello che intendo. Lina Bedoglia, ottimo come sempre. Antonello Lupi, grazie infinite. La scuola Siamo Noi, grazie infinite. Fabio Di Santo, grazie mille prof. Leggo solo le parti iniziali. Laura, grazie infinite. La scuola, grazie. Bravo. Gretel, gentilissimo. Prof Samani. Lisa, grazie, ottimi consigli. Dersu, grazie mille. Ancora Floriana Farano. Antonella Lupi. Buongiorno Francesco. Non riesco a vedere un video, ma adesso ha risolto il problema. Coach, grazie infinite. Professore, grazie. E mi fermo qui. Allora, io ringrazio voi. Spero che abbiate trovato questo video utile. Se volete ve ne proporrò altri. Mi avete chiesto anche delle successioni o delle serie numeriche un pochettino più complesse. Ve le farò appena non avrò altri impegni. Appena avrò essenzialmente un pochettino di disponibilità. Con questo io vi mando un collaroso saluto. Vi auguro una buona continuazione di giornata. E, che dire, preparatevi in maniera serena, propositiva e con motivazione. Ciao!